Il metodo Fonsi, molti di voi mi chiedete ma come si pronunciano questi accenti, dove va il verso a sinistra o a destra? Allora, il metodo Fonsi, Fonsi fa così, no? Allora, il vostro pollice sinistro è un accento aperto, quindi sali a sinistra, il vostro pollice sinistro. Il vostro pollice destro è un accento chiuso o acuto, sale a destra, quindi questo è E oppure O e questo è E oppure O.